Io sono qui accanto a due studiosi che, come si usa dire, con una forma un po' logora, ma di solito le formule logora sono quelle vere, non hanno bisogno di presentazione. Il professor Luciano Canfora alla mia sinistra, il professor Lucio Troiani alla mia destra. Entrambi hanno dato contributi fondamentali all'antichistica nelle forme più diverse. Davvero non vorrei indulgere ora in una sorta di elencazione curriculare dei loro studi. Ricordo soltanto nel caso del professor Troiani, che oltre che essere accademico dei lincei è stato per lungo tempo professore ordinario di storia romana all'Università di Pavia e si è lungamente occupato e, senza tema di smentite, il più grande esperto non solo in Italia di giudeo-ellenismo e questo gli ha permesso, lo vedremo tra breve, di guardare sempre al libro di Momigliano che ora presenteremo da un angolo prospettico particolare e sempre molto ben informato. Per quanto riguarda il professor Luciano Canfora, ripeto, sarebbe ozioso ora soffermarsi, ma ricordo almeno due libri che nel caso specifico entrano in taglio nel nostro discorso. C'è appunto il libro Ellenismo e poi il libro Viaggio di Aristea che, connessi al rapporto tra la cultura greca e la cultura giudaica, la formazione del concetto anche storico, epocale, di ellenismo, sicuramente ci potranno dare delle osservazioni specifiche sul libro di Momigliano. Perché abbiamo scelto questo testo? Lo abbiamo scelto, io credo, perché rappresenta bene, nella sua importanza storiografica, ma anche nella sua perenne attualità, il senso di questi incontri del Festival del Classico tra Oriente e Occidente. Il libro nasce da una serie di conferenze che Momigliano tenne tra il 1973 e il 1974, quindi siamo proprio 50 anni esatti, a Cambridge e poi al Brimmo College, scelse in quel caso un tema particolarmente ampio e rilevante, ovvero il rapporto che il mondo greco all'interno dell'ellenismo, l'ellenismo essendo l'epoca che consentì di fatto, in termini, vogliamo anche dirlo, brutalmente colonialistici, al mondo greco di conquistare l'intero Mediterraneo e di sfondare lungamente le porte verso Oriente, di venire a contatto con popoli e con culture che prima di quel momento le erano rimaste estranee, e in particolar modo il mondo dei Romani, il mondo dei Celti, il mondo appunto dei Giudei. Il problema che porneva Momigliano è come si fosse consumato questo incontro, con quali dinamiche, con quali esiti. Questo libro, queste conferenze, furono poi raccolte in un libro uscito nel 1975, un libro che perciò stesso uscì in prima edizione, in inglese, Alien Wisdom, un libro che aveva come sottotitolo, nell'edizione angolofona, un sottotitolo che è sparito poi nella traduzione italiana, quindi tengo a ricordarlo, il sottotitolo del libro era The Limits of Ellenization, i limiti della ellenizzazione. Questo, diciamo, manifestava fin dalla copertina, vorrei dire, il nucleo profondo della tesi di Momigliano, cioè che questo incontro del mondo greco con le altre culture fosse all'insegna, fosse o certo l'ipoteca, di un limite. Qualche anno dopo, nel 1980, il libro poi è stato tradotto dall'editore Einaudi, che pochi anni fa, nel 2019, ha lotevolmente ristampato l'opera, con il titolo Saggezza straniera, ma il sottotitolo, perdonerete queste cavillosità accademiche, ma io credo in questo caso siano piuttosto rilevanti, ha perso l'idea del limite, perché il sottotitolo italiano è L'ellenismo e le altre culture, è un titolo quindi da questo punto di vista più prudente. In realtà l'edizione italiana si caricava di un appendice, che nell'originale inglese non c'era, dunque riscattandosi in un certo senso, un appendice che Pomigliano scrisse qualche tempo dopo, ma in connessione con il tema maggiore, dal titolo, se vogliamo, ancora più parlante, cioè l'errore dei greci, che manifestava in maniera ancora più visibile quel concetto iniziale, quell'idea fondamentale che animava questo studio. Allora qual è il limite e qual è l'errore che i greci avrebbero compiuto nel guidare in maniera dall'alto questo processo? L'errore fondamentale sostiene Pomigliano nella serie dei capitoli, che adesso discuteremo naturalmente con i due illustri ospiti, e di aver condotto questo incontro in una posizione fondamentalmente di autarchia culturale. I greci ritengono di bastare a se stessi. Greci, romani, giudei entrano in contatto, dice Pomigliano, ma solo perché i romani e i giudei lo hanno voluto. I greci sono rimasti, diciamo, dall'alto, contenti, soddisfatti della propria cultura e hanno quindi preso una posizione anche linguisticamente passiva. E questa è anche una chiave di lettura fondamentale del libro, che i greci sarebbero rimasti orgogliosamente monoglotti, non avrebbero avuto l'impulso a conoscere le lingue altrui e perciò stesso a confrontarsi su un piano di parità con gli altri popoli. Questa è la tesi fondamentale, questo è il limite, questo è l'errore che Momigliano, diciamo, storiograficamente, riproverava ai greci, ma storiograficamente, guardando sempre anche all'attualità, credo di poter dire, e su questo io credo che possiamo cominciare a impostare il nostro dialogo. Io lascerei innanzitutto la parola al professor Canfora per chiedergli un posizionamento su questo libro, che cosa ha significato nella storia dei nostri studi e poi io spero anche del dialogo con il professor Troiani se possa emergere l'entopede, se questa diagnosi di Momigliano convinca, se sia stata messa sotto discussione negli ultimi anni, che cosa ci sia di vitale, al di là dell'idea diagnostica che lui ha proposto, in questa rilettura del mondo ellenistico che ci ha offerto. Ecco, grazie. Dunque, il libro, è giusto ricordare come è nato, rientra in una serie di opere tutte di grande efficacia, degli autori più diversi, originate da un ciclo di conferenze. Mi viene in mente Jäger de Mostene, un libro secondo me molto importante, anche molto criticato, conferenze che lui tenne negli Stati Uniti, poi tradotto in Germania dal testo inglese, 1938-39. Dopo la guerra potremmo ricordare Toynbee, Il mondo e l'Occidente, che è un libro che io metto sempre insieme a questo di Momigliano, dove l'Occidente sarebbero i Greci, in certo senso, e il mondo sono gli altri. La diagnosi che fa Toynbee è, secondo me, più profonda, perché ha un orizzonte più grande, ma anche lì lezioni poi messe insieme. Potremmo aggiungere altri esempi di Momigliano stesso, no? Pace e libertà. Oppure, quella fu, in certo senso, un'avventura non proprio felicissima, ma stiamo parlando di grandi personaggi, quindi queste osservazioni vanno prese con una certa distanza. Saim ha le prese con Sallustio. Sallustio, in certo senso, è il punto di partenza del saimismo-tacitismo, perché è una corrente di pensiero storiografica, secondo me, piuttosto interessante. Lui fa queste conferenze a Berkeley, se non sbaglio, e le mette insieme in un libro su Sallustio pieno di buchi, pieno di cose che andrebbero ritoccate, aggiunte, eccetera. Il libro Evomigliano pecca del peccato opposto, nel senso che ad ogni pagina ci sono decine e decine di informazioni a raffica lanciate addosso al lettore che, se fosse richiesto di farne un riassunto, avrebbe una certa difficoltà. Infatti, io ho ammirato molto uno dei giovani nostri amici studenti che ha riassunto questo libro ieri mattina dandone una lettura ultrasintetica perché o uno dà una cifra complessiva oppure si imbatte in una serie di considerazioni specifiche, di riferimenti specifici che si accavallano uno sull'altro ognuno dei quali presuppone nell'autore una dottrina sterminata ma anche una semplificazione a danno del lettore. Faccio un esempio nessuno può negare la competenza di Momigliano a proposito dei libri dei Maccabèi in particolare del primo a parte che da giovanissimo aveva scritto già un libro uno dei pochi libri un perfido uso l'aggettivo simpaticamente ironico diciamo il nostro grande studioso e collega che sta per compiere cento anni credo cioè Antonio La Penna ironizzava su Momigliano dicendo è un nomade nel senso che ha attraversato infinite tematiche con intelligenza luciferina però poi un libro complessivo vero e proprio è nato sì Claudio Filippo il Macedone Filippo il Macedone prima dell'esilio tra l'altro Claudio è già un libro alla maturità linee dell'interpretazione della storia maccabaica e un altro dei libri veri diciamo da lui scritti bene in questa tematica lui si addentra velocemente in questo volume quando parla del rapporto ebrei-greci e fa una curiosa critica al primo libro dei Maccabèi in particolare a quel capitolo 8 se non ricordo male in cui Giuda Maccabèo caldeggia l'alleanza con i romani con argomenti dice lui che denotano una scarsissima conoscenza perché parla del senato romano che si riunisce tutti i giorni poi che uce un console solo anziché due però tralascia stranamente secondo me eppure il testo lo conosce benissimo ma lo fa per amor di tesi secondo me che in quel libro e in quel capitolo in particolare c'è un'analisi del funzionamento della repubblica imperiale romana di grande profondità quando Giuda Maccabèo dice ai romani bisogna stare attenti perché sono talmente capaci che hanno conquistato un paese lontanissimo come la Spagna perché là ci sono le miniere d'oro e allora questo bravo autore che io annovero tra i maggiori storici la comodità di non avere un tavolo davanti è entusiasmante e fa parte diciamo dello spettacolo a carattere televisivo al quale tutti guardiamo come al massimo di conoscenze di possibilità di conoscenza va bene chiudo questa parentesi ora quel capitolo è un capitolo di un grande storico di cui non sappiamo il nome collocabile intorno al 100 avanti Cristo quindi ne ha viste parecchie dello sviluppo della Repubblica Imperale Romana altro caso in cui preme a lui per amor di tesi arrivare a un certo ritratto Senofonte e qui è un mio debole per la mia simpatia per quest'uomo è straripante va bene maltrattato pur avendo fatto un'opera notevolissima in molti campi compresa l'economia pubblica Senofonte dice come gli diano se non ricordo male io la vecchia edizione in Audi a pagina 138 ebbe Senofonte scarso interesse per la società persiana e questo a me sembra un paradosso perché a parte che l'anabasi non è una descrizione della società persiana ma è una descrizione del mondo dominato dal gran re di Persia e dai suoi satrapi per noi impareggiabile è impareggiabile in sé per sé non metto a far l'elogio di Senofonte ma dal punto di vista della storia economica della geografia della demografia è un trattato imprescindibile ma la stessa ciropedia che viene maltrattata perché non piaceva Platone il quale disse tanto Ciro non è mai stato educato da nessuno quindi la Ciropedia possiamo cancellare va bene la Ciropedia non è un romanzo storico è uno sguardo sulle origini di quella realtà incombente sul mondo greco lo dicevano ieri i nostri ospiti oratori che parlavano dell'antica Persia modello incubo punto di riferimento del mondo delle città greche e Senofonte in questo campo ha un ruolo centralissimo la traduzione l'errore dei greci l'errore dei greci a parte il fatto che se uno pensa che l'erta vilusa va bene del Luvio lingua che noi parliamo correntemente essendo giunte soltanto una ventina di parole di tutto si può imparare il Luvio in una serata in sostanza ma di questa lingua persa morta è rimasto un frammento in cui è nominata la erta vilusa che è la rocca di Troia cioè una tematica che l'Iliade poi ci ha donato in forme imperiture e se vogliamo tutta la teologia esiodea c'ha alle spalle Marduk eccetera allora come si fa a dire che non traducevano questo è un punto per me di rimente per amor di tesi che va rispettata perché i grandi libri hanno sempre una tesi forte al centro si ritaglia un po' la realtà secondo un'usanza diciamo così dialettica il primo ellenismo e poi mi taccio è quello della Ionia antica dove il contatto con il mondo persiano è continuo per cui dire che questi non hanno avuto interesse per i mondi viciniori non sta in piedi ecco allora entriamo proprio in questo punto di vista che mi sembra come è sempre lucidamente fotografato da Luciano Canfora possiamo allora articolare diversamente il ragionamento di Momigliano ovvero sentendoti parlare mi veniva in mente che i grandi libri i grandi studi che hanno mostrato in maniera profonda l'interazione del mondo greco arcaico con l'Asia e appunto tu evocavi Esiodo in primis sono stati appunto quelli di Martin West che sono diciamo quasi contemporanei e poco successivi al libro infatti io mi sono veramente domandato non ho mai approfondito l'argomento se West viene criticato da lui per incidence esatto si spiega esatto lì diciamo West dimostra benissimo che il mondo greco anzi lui usa una formula molto molto attraente bisognerebbe continuare a cominciare a guardare la Grecia non come la punta orientale dell'occidente ma come la punta occidentale dell'Asia che mi pare un modo di spostare il baricento culturale particolarmente illuminante ha avuto forse un effetto frenante in questo rapporto positivo proficuo del mondo greco con i mondi altri la costruzione di un impero quindi in una fase successiva quindi l'idea diciamo di aver cominciato a chiudere anche insomma sappiamo bene che l'epoca in cui nasce una distinzione forte tra il persiano e il greco si faceva notare che la parola barbara non c'è in Omero e la parola barbara non c'era in Omero perché diceva Tucidide non c'era ancora il greco e quindi non essendoci la parola greca non può esserci la sua contraposizione barbara allora c'è la possibilità di articolare questo problema guardando anche dal punto di vista della creazione dell'impero ateniese come una sorta di blocco nella storia dei rapporti è una domanda non so se tra il mondo orientale e il mondo occidentale sono d'accordo su questo aggiungevo il fratello di Alceo mercenario dell'esercito del gran re alle prese con un'area che è Gerusalemme fratello di Alceo certo noi parliamo di Alceo il fratello ci è noto per merito del più noto poeta che peraltro noi lo chiamiamo un poeta ma in realtà era un politico tremendo che ha fatto il diavolo a quattro con una certa durezza anche lessicale a parte dell'etica ma l'impero nasce 478 con una magna carta diciamo così di prosecuzione della guerra per liberare i greci dell'Asia eccetera perde peristrada molto presto questa idea che peraltro il caso di dire vive di più nel mondo atenese gravitante su Atene che non nel mondo spartano perché il racconto Tucidideo di Pausania reggente che vuole instaurare un'alleanza dinastica con i persiani e quindi poi viene massacrato a Sparta viene riportato e fatto fuori ma poi ci sono quegli episodi De Mosten e Terza Filippi che racconta Artmio Artmios Zelites Zeleites anzi De Mosten in quel caso fa il retore da strapazzo cui dice Artmios Zeleites Artmio di Zeleia virgola ripetiamo noi la virgola Dulos Basileos schiavo del re parentesi infatti Zeleia si trova in Asia allora uno dice l'ossa neanche per sogno ideologia pura siccome è in Asia lui è uno schiavo va bene perché tutti i sudditi del re tutti gli abitanti sono schiavi questa ideologia allo stato puro allude però a un episodio cioè questo signore questo tale Artmios lui dice veniva nel Peloponneso per comprare a parte che il re di Persia comprava tutti comprava De Mosten il medesimo se vogliamo come Plutarco ci rivela ma alquanto tempo dopo in piena guerra con Sparta e Sparta secondo Diodoro manda Messi in Asia appena comincia la guerra secondo Diodoro cioè secondo Eforo certamente nel 425 registra Tucidide che viene intercettata una lettera che viene dal gran re o da un suo satrapo indirizzata a Sparta viene intercettata quindi non arriva a destinazione e interpretata questi assiuri a grammata cui fa riferimento a un miliano a un certo punto dicendo c'è anche questa vicenda ora che cos'è in concreto è un altro segnale dell'interesse profondo spartano ad avere una sponda persiana contro l'impero atenese quindi certamente l'impero atenese per la sua stessa nascita struttura e apparente finalità penalizzata da episodi come la rivolta di Inaro e il disastro di Perigle in Egitto ha tenuto in piedi questa retorica della contrapposizione liberi schiavi greci barbari noi loro eccetera e quello è il momento in cui si consolida e Erodoto se ne fa portavoce nel settimo libro ecco allora io approfitto proprio di questo rimpallo per passare subito la parola al professor Toriani evocando se vuole seguire questa suggestione il nome anche di uno studioso a lei molto caro Elias Bickerman ecco come facciamo interagire il pensiero di Bickerman e il pensiero di Momigliano dall'angolo prospettico della storia del giudaismo di cui lei è così sovranamente esperto sono due personaggi molto diversi nel senso che Bickerman che io ho conosciuto conosciuto in varie occasioni che è morto nel 1981 31 agosto aveva una visione dell'ebraismo in età greca c'è il suo libro l'ebraismo in età greca che io poi ho tradotto per il mulino aveva una visione dell'ebraismo in età greca diciamo così molto più semplice e quotidiana ecco non a caso Bickerman era un grande ammiratore di uno studioso che forse voi tutti conoscete se non succede niente e cioè Louis Robert il quale aveva dedicato per oltre 40 anni nella Revue des Etudes de Greques una sezione dedicata all'epigrafia greco-giuraica e lì Bickerman attinge in maniera ovviamente moderata ma attinge a queste iscrizioni che denotano un modo di vita degli ebrei in età greca che è diciamo così un po' fuori dagli schemi tradizionali della erudizione moderna della letteratura moderna per cui se io posso consigliare a qualcuno di avere un'idea di che cosa era l'ebraismo in età greca io consiglierei più Bickerman che Momigliano perché perché Momigliano anche in questo libro La saggezza straniera che effettivamente è un libro molto discutibile diciamo discutibile nel senso che l'autore cerca di capire qual è il succo del libro il succo del libro lui vuol capire come i greci hanno capito o cercato di capire la civiltà iranica la civiltà romana la civiltà celtica e la civiltà ebraica e la sua risposta la sua risposta anche se è molto articolata e sfumata Momigliano era un grande non era certamente un esemplificatore però la sua risposta la sostanza della sua risposta è che i greci abbiano capito ben poco di queste civiltà ma questo però questo libro quindi ha anche questo altro grande merito cioè che apre al classicista che è abituato a pensare all'antichità a partire dall'età ellenistica ma anche prima come un'antichità fatta dai greci e dai romani e invece lui con questa sua tentativo di capire come i greci hanno capito queste civiltà si discosta da questo aspetto e ci a mio modo di vedere allarga la visuale a tutto un mondo che è stato completamente trascurato e non è un caso che nell'edizione italiana ci sia l'ellenismo e le altre culture mentre nell'edizione inglese come ha detto il professor Canfora c'è questa idea invece dei limiti dell'ellenizzazione che badate questi limiti della ellenizzazione per carità non voglio però non è una novità cioè non è che Momigliano è stato lui il primo a capire che l'ellenizzazione non è stata questa questa fusione mirabile di costumi come è per esempio rappresentata se io non ricordo male nella vita di Plutarco nella vita di Alessandro Magno di Plutarco cioè l'ellenismo a suo modo di vedere e il mondo greco ha capito ha capito ben poco del mondo del mondo di altre culture che sono state completamente o fraintese o delineate in modo molto superficiale se voi nel libro per esempio lui si accanisce particolarmente ma questo è funzionale alla sua idea di fondo si accanisce contro il povero Polibio che dice che non ha capito niente di Roma e a un certo punto dice se voi volete capire qualcosa di Roma andate a leggere Cicerone andate a leggere Plauto e poi dice Momsen ma dice non andate assolutamente a leggere Polibio e questo mi dà anche occasione di parlare appunto di quello che tu dicevi cioè del primo libro di Maccabee e del cereberrimo capitolo ottavo che è ovviamente uno dei punti più complicati della nostra ecco una cosa che Momigliano a mio modo di vedere ricorda poco o addirittura non ricorda mai però questo io non non mi sento di sostenerlo in modo sistematico perché non ho letto tutta l'opera di Momigliano e qual è? è che il primo libro di Maccabee un grecista che lo legge capisce quasi niente cioè il primo libro di Maccabee è un fatto tanto noto quanto poco considerato è una traduzione è una traduzione dall'aramaico e questa traduzione dall'aramaico che si vede benissimo nel testo purtroppo questo adesso io non voglio fare il solito anziano che se la prende con gli studi moderni però purtroppo chi affronta il primo libro dei Maccabee delle volte non ha una gran conoscenza o familiarità con le lingue semitiche e in particolare con l'ebraico ma perché parlo del primo libro dei Maccabee perché il primo libro dei Maccabee Maccabee appartiene a un genere di letteratura che è assolutamente non greca cioè uso una brutta parola ma anellenica e anche una cosa che a mio modo di vedere Momigliano non sottolinea è che cioè noi accomuniamo primo e secondo libro dei Maccabee come se praticamente fossero delle narrazioni parallele ma guardate che è completamente diverso anche se raccontano gli stessi avvenimenti perché perché il primo libro dei Maccabee e questo è un punto secondo me abbastanza interessante il primo libro dei Maccabee cerca e introduce voi sapete che nel 167 avanti Cristo il Tempio di Gerusalemme fu profanato diciamo profanato dal punto di vista del partito maccabaico fu profanato ma nel primo libro dei Maccabee si dice non si parla di un dio di un dio greco perché secondo due Maccabee il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato dedicato a Zeus Olimpio ma questo lo dice il secondo libro dei Maccabee che è un ebreo della diaspora e cioè cioè il sunto di un ebreo della diaspora cioè Giasone il quale evidentemente viveva nella città greca e quindi pensava che la riforma di Gerusalemme fosse una riforma ellenistica ma guardate che se voi leggete il primo libro dei Maccabee non è così il dio che viene introdotto o modificato o trasformato o come volete dire è un dio feniscio è il betilo che sapete è l'ebraico Betel cioè la casa di Dio cioè sono queste pietre singolari che adoravano i fenici e che il primo libro dei Maccabee ritiene che fosse stato messo sopra l'altare degli Olocausti cioè voglio dire che qui siamo davanti a un tipo di letteratura non greca anellenica che per motivi io finora non ho trovato spiegazioni fu tradotta ma fu tradotta quasi alla lettera in greco però ecco ci sono due cose completamente diverse che vanno su cui bisogna considerare ecco e lui volevo dire scusate un attimo ma cioè che lui questi questo mondo greco non ha cioè lui svolge come i greci hanno compreso per esempio la cultura romana la civiltà romana e fa cioè diciamo anche se il suo periodo è limitato ovviamente non comprende tutta l'antichità però lì c'è qualcosa che non torna perché ovviamente non è certamente perché lui lì si appunta solo su Polibio su Polibio come diciamo così come esempio di come i greci hanno capito la cultura romana la civiltà romana e naturalmente poi questa sua idea è stata contestatissima e diciamo così confutata ecco in modo anche notevole ecco quindi questo è un punto che a me sembra così di un certo interesse posso interagire direttamente visto che è stato evocato il problema della traduzione di testi da lingue semitiche a lingue greche intanto diciamo soltanto per una maggiore chiarezza vorrei soltanto ricordare perché è così importante guardare il punto di vista dell'epopea macchabaica in questa nostra discussione diciamo si fa riferimento all'aggressione così la vissero naturalmente il mondo ebraico l'aggressione di Antioco IV quindi diciamo la casa dei Seleucidi in Gerusalemme che avviarono un processo di pesante radicale ellenizzazione della società ebraica che fu vista naturalmente con un'aggressione esterna e causò nell'ambito ebraico nell'ambito giudaico una sorta di resistenza identitaria molto forte incarnata appunto dal mondo macchabaico però appunto io so perché lei mi stava dicendo però il dissenso che ha avuto ha fatto giuda macchabeo tra noi no il libro di Bickerman nel caso di questa di questa di questa vede giusto vede giusto e Momigliano non lo discute mai naturalmente questo è un aspetto molto importante ma a parte questa cosa io volevo chiedere colpisce nel libro di Momigliano in questa riflessione sul rapporto tra il mondo greco e il mondo giudaico l'assenza o la marginalizzazione all'interno della sua tesi del problema della traduzione dei settanta della traduzione dal testo ebraico alla traduzione greca ecco lì il problema fondamentale è questa traduzione dobbiamo guardarla come un diciamo un prodotto unicamente giudaico e quindi estraneo all'interesse culturale dei greci tra parentesi diciamo tesi Momigliano oppure dobbiamo immaginare che in questa operazione straordinaria Bickerman la definiva nel libro che lei ha evocato la traduzione più importante mai realizzata nella storia dobbiamo riconoscere anche un'interazione quindi attiva tesi contro Momigliano del mondo greco onestamente sarei davvero curioso di conoscere il suo parere perché è un tema di grandissimo impatto Sì, naturalmente non c'è una soluzione univoca come voi capite bene il problema qual è? è che la settanta da Momigliano è come tutta la letteratura lui stende un velo diciamo così di silenzio sulla letteratura giudaico-ellenistica e anche appunto sui ellenistai i famosi ellenistai del capitolo sesto degli atti però senza considerare questo io lo dico che non è che nel Nuovo Testamento bisogna discutere solo degli ellenistai al capitolo 6 questo è su cui ci si è accapigliati perché ma perché nel Nuovo Testamento e soprattutto negli atti degli apostoli ci sono una serie di citazioni di greci ellenes ma la cosa che ancora a me sembra ancora più strana è che la tradizione manoscritta negli altri passi non il capitolo sesto in cui cita questi greci è incerta sulla lezione ellenes o ellenistai cioè questo che cosa suggerisce al mio modo di vedere che evidentemente nelle comunità ebraiche soprattutto della diaspora esistevano diciamo dei gruppi che si erano ellenizzati ed erano chiamati diciamo così erano considerati qualche volta in modo spregiativo dagli ebrei osservanti praticanti io qui l'ho detto centomila volte ma nel nel vangelo di Giovanni 735 quando Gesù dice io voi voi non sapete dove andrò io cioè un poco mi vedrete e un poco non mi vedrete e allora i giudei che nel vangelo di Giovanni non rappresentano l'intera l'intero ebraismo questo è fondamentale e che cosa fanno dicono questo qui va nella diaspora dei greci ecco se voi leggete il passo nella traduzione diciamo canonica si dice che questo di esten diasporan ton ellenon vuol dire nella diaspora che sta in mezzo ai greci ma questa è una traduzione a mio modo di vedere per quel poco che so di greco mi sembra una traduzione assolutamente insensata perché questo è un genitivo come tutti nella letteratura giudaico ellenistica c'è la diaspora di israele non è che dice la diaspora che sta in mezzo a israele è un genitivo e questo allude probabilmente al fatto che giovanni ha notato come il giudaismo più osservante diciamo così guarda con un certo diciamo così disprezzo o insomma questo mondo di comunità che vivono diciamo così alla greca e che vengono chiamati così ecco ma io e poi concludo perché ho parlato sin troppo il punto è che questi noi questo mondo greco questo mondo giudaico ellenistico nel libro di Momigliano è o quasi marginato oppure addirittura anche disprezzato perché voi sapete che ci sono alcuni versi di Euripide di Sofocle e anche di Menandro se non ricordo male che vengono citati dagli autori cristiani in forma diciamo così contaminata nel senso che questi versi vengono modificati per esaltare il monoteismo ebraico cioè guardate questi dicevano guardate che anche Sofocle anche Menandro e anche Eschilo sentivano in realtà loro erano monoteisti ecco Momigliano dice che queste sono falsificazioni a biette ma io ho questo però il punto qual è? che lui attende a non vedere assolutamente a non capire a non voler capire e a occuparsi di questa di questa parte del mondo ebraico che a mio modo di vedere viene completamente emarginata anche nel libro e di conseguenza anche il mondo della diaspora perché lui parla pochissimo della diaspora ma la diaspora come in tutto il corso della storia ebraica come in tutto il corso ha sempre avuto un influsso enorme anche sulla Giudea stessa ecco questo è il punto sì sarebbe molto interessante chiedersi perché Momigliano prende questa via diciamo occorre riconoscere che non è soltanto lui soprattutto in quella fase a marginalizzare il mondo del giudeoellenismo perché questo mondo è stato diciamo così parimenti marginalizzato tanto dai filologi classici di stretta osservanza in quanto considerato un greco deteriore una cultura estranea quanto anche dal mondo degli studi semitistici perché hanno visto in quel tipo di ebraismo un ebraismo ellenizzato ellenofono in quanto tale traditore lontano dalla purezza dall'ortodossia e quindi diciamo questa letteratura che aveva proprio il suo punto di forza per la verità nell'incontro tra queste due culture è stata marginalizzata su più fronti e questa assenza si avverte in maniera particolarmente manifesta nel libro di Momigliano e uno sarebbe anche come dire incuriosito a domandarsi perché un uomo che ha fatto soprattutto da un certo momento in avanti della propria identità ebraica anche un asse fondamentale del suo fondo esistenziale abbia preso questa via e questo diciamo lo lasciamo sullo sfondo ma sarebbe naturalmente di grande interesse discuterlo e anzi inviterei magari Luciano Canfor a ragionare su questo e a ragionare a suo piacimento anche visto che abbiamo evocato Polibio c'è anche Posidogno di mezzo c'è questa idea del greco che non riesce a capire il mondo altrui pur sfruttandolo ecco questa ti chiederei possibilmente questa doppia veste di studioso anche del mondo di Roma e di attento osservatore della realtà contemporanea in cui anche Momigliano ha avuto naturalmente un ruolo nell'ambito del suo ebraismo intanto aggiungerei sulla questione tradurre mi ha colpito là dove una grande assenza è la biblioteca di Alessandria una grande assenza epicentro di una dilatazione agli altri mondi dell'uso del greco per capire e interpretare gli altri mondi da Zoroastro ai 70 aggiungiamo che lui dice a un certo punto che Sincello a parte che Sincello poi non è un nome di un autore ma è una carica dice che i greci in epoca alessandrina hanno tradotto anche testi latini ma chissà in realtà la notizia del tradurre le opere di tutti in greco quindi dilatare enormemente la quantità di libri altrui ad Alessandria viene dal è citata anche sì da Giorgio Sincello a un certo punto ma è nell'introduzione al Pericomo Dias dove si parla esplicitamente dei testi dei latini e quindi siccome il Pericomo Dias è un testo molto tardo ma che ha fonti ellenistiche di primo ordine va preso molto sul serio hanno la lettera di Aristea la buttiamo via a questo punto puro romanzo e va bene perché questa scelta secondo me le cause sono molteplici da una parte c'è un credo io una scarsa frequentazione scarsa simpatia per la letteratura cristiana dei primi secoli in lingua greca che sarebbe stato un veicolo formidabile come dire un anello di congiunzione fra queste varie epoche esperienze e culture proprio sono quasi estranei poi c'è stato nella sua vita una forte un innamoramento diciamo così per la romanità per il ruolo importantissimo dell'unificazione della cultura mediterranea del mondo mediterraneo ma poi anche di quello celtico ad opera della potenza militare e organizzazione politica e capacità amministrativa e inclinazione a imparare dagli altri del mondo romano va bene questo innamoramento per il mondo romano ha depresso il ruolo fondamentalissimo della cultura greca per grecizzare il mondo romano per cui prendere a schiaffi Polibio è curioso al momento che è il principale testimone di come l'elite romana abbia imparato quasi tutto dalla cultura politica storiografica greca di cui quest'uomo è stato il veicolo per le sue vicende personali che lo hanno portato a frequentare gli scipioni emiliano tutta la scena dei libri in prestito che si davano Machiavelli l'ha capito meglio perché Machiavelli quando ha cercato di spiegare che cos'era l'impianto della Repubblica Romana ha preso Polibio libro sesto capitolo 2 l'ha tradotto dal latino credo io in italiano va bene nel magnifico inizio dei discorsi sulla prima decca di Tito Livio quindi Wolbank credo che si sia sentito a disagio dinanzi a quel maltrattamento costante di Polibio per cui se tu mi chiedi qual è la ragione di questi limiti di prospettiva io ci metterei da una parte il disinteresse verso quella parte enorme della letteratura greca superstite che è la letteratura cristiana e dall'altra questo innamoramento per il mondo romano che nasce a metà degli anni trenta in lui e poi non si perde mai del tutto anche quei lavori pace e libertà è un armeggiare intorno alla questione se davvero il principato sia riuscito a conciliare la Pax con la Libertas tematica scivolosa in realtà che quando lui la sviluppa nel dopoguerra avanzato è anche anacronistica dunque io avrei piacere diciamo di inserire ma lo faccio in maniera molto molto parentetica e quindi anche un po' codarda mi ne rendo conto perché lancio un sasso e tiro subito la mano ma devo dire che mi sono sempre domandato se anche l'identità appunto ebraica militante di Momigliano la guerra dei sei giorni eccetera non abbia avuto un ruolo nel guidare questo libro soprattutto il capitolo sull'errore dei greci che mi è sembrato sempre una chiave di lettura possibile ma mi rendo conto che è piuttosto difficile anche inoltrarsi in questo genere di riflessione vorrei però porre all'attenzione dei due ospiti e anche naturalmente dei presenti un'altra tesi connessa strettamente connessa al libro di Momigliano di cui oggi ancora non abbiamo parlato e che in effetti è scivolato un po' sui margini che a me però insomma preme sottolineare io penso che questo libro non abbia soltanto con tutti i suoi limiti naturalmente oggi l'avete visto insomma abbiamo sparato non poco devo dire attorno a questo volume sui limiti appunto sull'errore dei greci nel guidare questo processo c'è anche un altro risvolto della sua tesi ovvero che dopo aver guidato questo processo cioè dopo aver favorito in una posizione di supremazia e anche se volete di orgogliosa autarchia l'incontro con i romani l'incontro con i celti l'incontro con i giudei eccetera l'esito fondamentale è stato che poi questo collegium trilingue lui usa questa questa formula dal famoso collegium lovaniense cioè il collegium l'idea che l'occidente come noi oggi lo chiamiamo si sia fondamentalmente costruita attorno a un'identità greca a un'identità romana a un'identità giudaica quindi intorno anche linguisticamente al greco al latino all'ebraico con tutto ciò che ha significato questo poi anche dal punto di vista della storia testamentaria delle tre lingue sacre eccetera ecco questo prodotto alla fine ha avuto un effetto di allargamento all'interno dell'ellenismo quindi ha messo in comunicazione i popoli che ruotavano all'interno dell'ellenismo ma ha chiuso definitivamente la porta ai popoli che stavano fuori gli egiziani i persiani i babilonesi gli irani che non sono mai più entrati nell'orbita dell'occidente se non fino poi all'epoca moderna e questo è un risvolto che vorrei mettere in rilievo cioè mentre guidavano questo processo di unificazione interna da una posizione di forza e colonialistica questa è la tesi di Momigliano che oggi abbiamo anche cercato di criticare dall'altro si è prodotto una svolta epocale cioè questi popoli sono usciti definitivamente dall'orbita dell'ellenismo dall'orbita dell'occidente e soltanto faticosamente gli studi moderni attraverso la riscoperta degli studi anche proprio linguistici sono riusciti a reinserirli e questo è un punto di vista diciamo sul quale in effetti meriterebbe riflettere e sul quale forse la tesi di Momigliano mi sembra più solida rispetto alle fragilità e l'arroganza del mondo greco un commento magari su questo aspetto dei miei due ospiti e poi soprattutto anche uno spazio non ampio mi rendo conto che i tempi sono stretti ma se anche il pubblico vuole intervenire con qualche curiosità è naturalmente ben accetto sì brevissimamente un libro che certamente Momigliano conosceva ma non lo è evoca perché sebbene citi tantissimo rinuncia alle note a piedi pagina ma tutto appare tra parentesi quindi è una lettura molto è la Geschichte del Filologie di Vilamovitz che nelle pagine finali lascia in un certo senso il tema di tracciare la storia del lavoro filologico nel corso dei secoli anzi dei millenni e descrive magistralmente quella unica civiltà bilingue che è creata nei secoli più conosciuti e più produttivi del predominio romano diciamo tra la seconda parte del primo avanti fino a tutto il primo dopo va bene quelle pagine sono magnificamente scritte per illustrare che cosa è stato il frutto dell'elenismo e della mescolanza e della conquista della intellettualità romana da parte dei pensatori retori storici greci compreso un gigante come Posidonio che tu giustamente hai citato ma io l'ho lasciato perdere per istrada quindi questo certamente andrebbe ricordato il fatto che quella quelle pagine insomma a Villa Moviziane vanno avanti vanno oltre rispetto a questo libro qua tu però poi chiedevi no chiedevo se questa idea di aver chiuso no dicevo l'altra considerazione molto breve alla quale approdavo per lasciare subito la parola è verissimo che la chiusura coincide grosso modo con la Pax Augusta no che intanto funziona e funziona per un bel po' di tempo per la scelta augustea dopo il fallimento di Crasso le penose campagne di Antonio verso i parti le effimere vittorie 38 36 avanti Cristo di Ventidio Basso di raggiungere un compromesso con i parti durevole separazione di due imperi due imperi che si rispettano si fa riavere le insegne di Crasso della battaglia di Carre e cerca di tranquillizzare quel fronte anche perché ha dei problemi non piccoli a casa sua fino all'anno 13 alle prese con le Alpi dove deve completare la conquista della Gallia mai completata del tutto poi torna e fa la Rapacis va bene quindi quella chiusura autosufficiente che chiamiamo Pax Augusta è una spartizione di aree di influenza rispetto all'impero Partico che però non è mai un problema chiuso perché poi può ritornare nel tempo come sappiamo questa è certamente una soluzione diplomatica all'altezza dell'ingegno politico di Augusto ma al tempo stesso una resa dinanzi alla aspirazione universalistica di partenza Professor Ottuviani a lei un'ultima riflessione su questo tema ecco io avrei cioè dal libro La saggezza straniera ovviamente mi sembra di ricavare che il motivo fondante di questo libro è una dimostrazione a prescindere da come i greci interpretarono questo l'ho già detto quindi non voglio ripetermi ma il motivo fondante secondo me di questo libro è che in realtà secondo lui la parte vera dell'ebraismo quella che lui considera è in realtà sempre rimasta estranea al mondo greco ecco questo è il punto e questo lo dice più volte anche in termini articolati non certamente diciamo così apodittici per carità però la sua idea di fondo è che il mondo ebraico quello vero diciamo è sempre rimasto estraneo alla civiltà greca anche perché anche dice la settanta è stata tradotta dalle comunità perché non gli piace che sia stata tradotta su ordine di tolemeo secondo filadelfo e da questa sua idea che evidentemente avrà maturato non so quando nasce proprio questo libro cioè lui ha esteso questa presunta ignoranza la ignoranza superficialità greca anche ad altre civiltà per trovarvi conferma e questo mi sembra un punto abbastanza centrale del libro sicuramente discutibile perché poi concludo perché in realtà l'ebraismo di lingua greca è l'antenato della letteratura cristiana su questo non c'è dubbio se voi leggete Clemente Alessandrino è abbastanza complicato o la preparazione evangelica di Eusebio o la demostrazione evangelica di Eusebio che secondo me è troppo studiata dai cristianisti mentre dovrebbe essere anche studiata da altri e lì si capisce benissimo Eusebio cita tutta una serie di autori diciamo così anellenici cioè che non appartengono alla tradizione classica greca ma che lui vede come dei diciamo dei progenitori del dell'ebraismo del cristianesimo scusate e poi c'è questa sua famosa frase nella demostrazione evangelica del proemio che io considero a tutti di leggere consiglio a tutti di leggere dove lui dice guardate che il cristianesimo non è né giudaismo né ellenismo certo voi direte Eusebio vive in un'altra epoca certamente però c'è questo tentativo da parte dei cristiani di recuperare un certo tipo di ebraismo che aveva diciamo così che si era soprattutto introdotto e si era sviluppato nella civiltà greca nel mondo greco e questo spiega perché il nostro Arnaldo Momigliano ha così poco amore per questo tipo di letteratura Ecco questa è un'osservazione sulla quale davvero credo possiamo avviarci a concludere di grande rilievo cioè forse capite anche perché abbiamo cercato di dare uno spazio cospicuo nella discussione di questo libro all'aspetto ebraico e l'idea che appunto Troiani ci ha presentato cioè Momigliano medita una riflessione del rapporto tra il mondo greco mondo giudaico e poi la spalma anche con forzature abbastanza pronunciate sul resto delle civiltà dà la chiave naturalmente anche dei limiti del libro abbiamo cominciato a parlare dei limiti dell'elenizzazione possiamo concludere con i limiti del libro ma questo non toglie nulla al suo interesse anzi io credo che anche per i giovani che ci ascoltano possa essere un'idea particolarmente proficua cioè i grandi libri e questo Momigliano lo ha sempre riconosciuto di solito insegnano molto proprio laddove smagliano grazie grazie a tutti